questo si chiama voicai, questo è l'iapiro, questa tarta, torta, come in italiano lei 73 anni, lui 78, pensionati in Estonia io prendo 800 euro al mese, sono ingegnere e facevo l'ispettura ambientale io 690, lavoravo per il comune, al Catasto quando l'Estonia divenne indipendente dall'Unione Sovietica fu un problema riorganizzare le pensioni io ho lavorato fino a 72 anni, ho risparmiato e messo da parte risparmiare è importante perché qui la pensione pubblica offre in media 500 euro al mese calcolati su retribuzione, anni lavorati e inflazione a che età si va qui in pensione? 65 il sistema previdenziale è una parte pubblica e una privata ma obbligatoria e si sta per approvare una nuova riforma nel nome della flessibilità facciamo volontario quello che se vuoi investire dei fondi privati puoi farlo ma non sei obbligato c'è chi teme che così in troppi spenderanno subito i soldi del fondo previdenziale e si ritroveranno con pensioni basse ma qui in molti sono abituati a cavarsela ho 66 anni e prendo 335 euro al mese, il minimo sociale è poco, è vero, io devo continuare a lavorare ma non è un problema quelli come me sono destinati a morire con gli strumenti in mano grazie a tutti i nostri spettatori 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 grazie a tutti i nostri spettatori